...tenendo più lontano possibile, adesso sarà un punto importante, poi in fondo è importante, sarà importante anche in fondo al prossimo e ci prova, ci prova Rins, strettissimo, si è riportato sotto al salotto e non ce l'ha fatta, ha scavalcato ma in fondo intanto c'è Vignale, si può soffrire sostanzialmente, pura doppia